Oggi vi propongo in realtà un pezzettino di un più ampio spaccato che parla di sogni e di libertà di essere, dei figli di immigrati in particolar modo. E vorrei raccontarvelo andando a toccare quella che è l'intimità dei pensieri, poco raccontati, molto sconosciuti, ma che sono parte delle vite di questi ragazzi e queste ragazze e che plasmano appunto queste vite, le definiscono in qualche modo, le indirizzano e le rendono quello che sono. Quindi sono partita un po' cercando di ragionare, pormi delle domande e porre delle domande. E così ho cominciato a pensare e a chiedermi cosa sognano di diventare da grandi una bambina o un bambino? Quanta libertà hanno di immaginarsi? Quando, come e cosa poi condiziona i loro sogni? E quando quella bambina e quel bambino sono figli di immigrati? Sognano allo stesso modo? Hanno la stessa libertà di volare con l'immaginazione? Quando, come e cosa condiziona i loro sogni ad un certo punto? Io credo che i bambini e le bambine di ogni provenienza ed esperienza sognino ugualmente. Vedono gli stessi disegni nelle nuvole, immaginano sconfinati i mondi in cui calano se stessi e se stesse. Giocano a fare i grandi, fantasticano su ogni cosa che gli succede. Finché non si scontrano con la vita reale, che spesso sa essere amare e deludente. E questo vale per tutti e tutte, appunto, di ogni provenienza ed esperienza. Oggi, però, la mia attenzione vuole soffermarsi su chi ha avuto un percorso migratorio, diretto o indiretto. E poco fa ho detto che, ad un certo punto, qualcosa condiziona i sogni. Ed è su questo, indefinito momento temporale, che voglio attirare la vostra attenzione e raccontarvi delle storie. Ad un certo punto ti accorgi che gli altri ti vedono come diverso o diversa. Ad un certo punto ti accorgi di essere trattato diversamente. Ad un certo punto ti accorgi di essere discriminato o discriminata. Ad un certo punto senti di far parte di un altro mondo e ti domandi quale. Ad un certo punto capisci che non sei né di qua né di là. Ad un certo punto ti accorgi che qualcuno ti definisce. Ad un certo punto non sai come definirti. Ad un certo punto ti senti indefinito o indefinita. Ad un certo punto è il caos, è il conflitto, è la lacerazione. Questo punto, questo ad un certo punto, arriva abbastanza presto. Fine scuole elementari, scuole medie, comincia a farti mille una domanda. Dopotutto quella è l'età della crisi per eccellenza. Ma per molti figli e figlie di immigrati l'esperienza è moltiplicata all'ennesima potenza. Chi in modo più consapevole, chi meno consapevole affronta questo momento, questo ad un certo punto. E così cominciano a vacillare i sogni. Ve lo racconto con le voci dei protagonisti di storie quotidiane che mediamente non si conoscono, non si raccontano, non hanno visibilità. In questa società che vede ancora i figli di immigrati come un corpo estraneo e non parte integrante di sé. In vista di questo incontro ho lanciato un appello su Instagram chiedendo ai figli e figlie di immigrati che mi seguono di raccontarmi i loro sogni, le loro paure e se ci fosse qualcuno o qualcuna che fosse riuscito o riuscita a realizzare i propri desideri. Ho ricevuto tantissime risposte, spesso commuoventi e toccanti, e qui ne ripropongo qualcuna. Parliamo prima di tutto di sogni e paure e tante domande. Dicono Vorrei diventare medico, ma i pazienti si fideranno di un dottore nero? Come si comporteranno? Voi vi fidereste? Vi siete mai posti la domanda? Vorrei fare l'avvocata, ma non ho ancora la cittadinanza. Senza non posso partecipare all'esame di Stato né praticare. Avete mai riflettuto sul fatto che non abbiamo sempre tutti e tutte le stesse opportunità, pur essendo apparentemente uguali? Quella questione se le è posta questa ragazza che è nata e cresciuta in Italia, che non ha ancora la cittadinanza italiana e quindi non ha le stesse opportunità di realizzare i propri sogni come i suoi compagni. Vorrei lavorare ed essere autonoma ed indipendente. Troverò lavoro con il velo? Quando vedete una ragazza che indossa il velo, qual è il primo pensiero che vi viene in mente? Vorrei fare la poliziotta. I miei genitori capiranno, accetteranno, per loro non è un lavoro. Noi non siamo parte di questo paese. Vorrei non essere chiamato il marocchino come dispregiativo. Avevo lasciato la scuola, ma ora ci sono tornato per dimostrare quanto vale questo marocchino. Vorrei non dover essere sempre la più brava in ogni cosa che faccio. Sempre, eccellere, eccellere. Per dimostrare che sono all'altezza di tutti. Vorrei anche poter sbagliare, senza dover essere giudicata incapace perché di origine di un paese che tutti reputano non avanzato. E si immagina che chi viene da là, o che vive là, non possa svilupparsi. Vorrei realizzare il sogno di mio padre. Studiare e avere un buon lavoro. Lui non ha potuto. Ha dovuto lavorare per sostenere la famiglia. E non ha mai potuto realizzare il suo sogno di studiare. Ma sono stigmatizzato perché arrivo dalle case popolari. Che destino avrò? Questa frase è molto ricorrente, quella del sogno da realizzare, il sogno dei genitori da realizzare. Spesso banalmente studiare. Vorrei essere come gli altri. Ma gli altri non mi riconoscono come loro. Vorrei non aver paura o vergognarmi di essere diverso. E così via. Sono tanti i sogni e le paure, come potete immaginare. Poi ci sono le sfide. Ci sono le vittorie e ci sono le sconfitte. Ascoltiamo qualche altra voce. Quando ho finito le scuole medie, i miei professori insistettero con i miei genitori affinché studiassi in uno istituto professionale o tecnico. Dicevano, è meglio per vostro figlio, potrà aiutare la famiglia, trovando subito lavoro. Io invece volevo e amavo il liceo scientifico. Amavo studiare e mi veniva facile. Ma non decidevo io. Gli insegnanti nel loro giudizio finale di indirizzamento scolastico misero professionale, tecnico. Mi bollarono e i miei genitori lì mi spedirono. Furono cinque anni lunghissimi. Una tortura. Mi isolai dal mondo. Finché non capì che la mia tristezza e infelicità era dovuta alla scelta di altri. Conclusi le scuole in qualche modo. Feci il test però per entrare ad ingegneria. Lo passai. Scelsi per me. Oggi sono un ingegnere per una delle più importanti compagnie che progettano telefoni. Ho scelto me stesso. Ho scelto di essere libero. Ho scelto di essere me stesso. Ho ricevuto molti racconti di questo genere. Davvero tanti. E emerge un sommerso che merita di essere approfondito e affrontato. Ma vi racconto ancora qualche altra storia. Qui di una ragazza. Per la durata di tutte le scuole superiori mi è stato detto e imposta l'idea che non potevo aspirare a nulla di ambizioso. Perché figlia di immigrati. E perché indosso il velo. Ci ho creduto finché un giorno ho deciso di provarci lo stesso. Seguire il mio sogno. Ho così studiato architettura. E oggi sono borsista e assistente professore all'Università di Architettura. Ho una possibile carriera accademica davanti. Eppure mi sento ancora inadeguata e a disagio. Mi chiedo continuamente se sono all'altezza e se fa per me. Perché i miei professori inizialmente a scuole superiori dicevano sempre che non ero all'altezza. Che non era il mio spazio. Che non era il mio ambiente. Me lo merito. È frutto delle mie reali capacità. Eppure sono stata individuata dalla mia docente come la miglior allieva. ed essere presa sotto la sua ala è stato davvero gratificante. Ma non sufficiente. In me è stato seminato il dubbio dell'inadeguatezza. E non riesco a togliermelo di dosso. Io non voglio fare la carriera accademica in realtà. Vorrei fare proprio l'architetto. Ho provato a presentarmi in vari studi. Ma ho trovato un certo razzismo. Seppur sottile e camuffato da ironiche battute. Ma devi per forza tenere quel robo in testa? E allora mi chiedo. Forse è meglio restare nella mia safe zone nell'università? E rinunciare al mio sogno per inquieto vivere? Sono in terapia per questa situazione. Ma devo imparare a reagire. Vorrei essere libera di essere. Volevo fare la poliziotta. I miei genitori non lo accettavano. E dicevano che dovevo pensare ad essere una buona madre. Sono diventata una buona madre. E una mediatrice culturale. Una volta diventata però indipendente. Ho deciso di cercare di realizzare il mio sogno. Ora mi manca l'ultimo esame. Vorrei portare delle novità nelle forze dell'ordine. E combattere il razzismo e i pregiudizi che anche lì dentro alleggiano. La scuola non ha creduto in me. E neppure la famiglia. Lo stigma da ogni fronte mi ha schiacciato. Ho 40 anni. Nessuna prospettiva. Eppure ho sognato tantissimo. E con tutte le mie forze. Mi sono promessa di fare di tutto perché i miei figli realizzino i loro disogni. Io non ho potuto. Non ho potuto essere libera di essere. Concludo con una nota biografica personale e una riflessione finale. Ogni tanto penso, sorridendo, che 50 anni fa i miei nonni mai avrebbero potuto immaginare che i loro figli, Muhammad e Zubayda, mio papà e mia mamma, sarebbero andati a vivere in Italia per diventare medico lui, ma anche un imam impegnato nel dialogo interreligioso. E non avrebbero immaginato che sarebbe poi morto e che sarebbe stato inumato sotto gli ulivi della campagna Umbra a causa di una pandemia. E ancora meno avrebbero immaginato che al suo funerale lo avrebbe ricordato il suo amico cardinale. E ancora meno avrebbero immaginato che mia mamma sarebbe diventata una delle prime donne presidenti di una moschea in Italia e guida religiosa di uomini e donne. Sicuramente i miei nonni non avrebbero neppure immaginato che la prima nipote, io, sarebbe diventata un giorno consigliera comunale a Milano, vicepresidente della Commissione Cultura di Milano, autrice di libri in lingua italiana e consulente in diversità e inclusione. In realtà anche io da piccola pensavo che non sarei mai diventata qualcuno. Pensavo che la mia vita dovesse essere come quella di zia e cugine, sposata, con figli, mediamente stufa e triste, per non aver realizzato alcun sogno. Fino a quando un giorno ho capito che volevo far qualcosa e non essere qualcuno, far qualcosa per gli altri, per me stessa e cambiare ciò che reputavo sbagliato. Bisogna ad un certo punto, ad un nuovo certo punto, prendere consapevolezza di sé, del proprio potenziale, del contributo che ognuno ed ognuna di noi può dare, ovunque ci si trovi e in qualsiasi condizione, più o meno favorevole o avversa. Lo dico in particolare a chi è come me, ibrido o ibrida, che pensa di non essere qualcosa di preciso. Ed è così. Non siamo qualcosa di preciso, ma più cose. Ed abbiamo una posizione privilegiata, in realtà, che ci permette di entrare in più mondi, spesso inaccessibili agli abitanti di uno o agli abitanti dell'altro. Se non si prende consapevolezza di questo, non si comprende il valore e la ricchezza di cui siamo portatori e portatrici. È come un artista che ha più colore e disposizione. Non necessariamente può usare al meglio quello che ha, ma se impara ad usarli bene, genera nuova bellezza. È incredibile dove può portare la vita. Alberi con radici salde possono far cadere lontano i propri frutti, i cui semi si possono diffondere ancora più lontano per ricominciare a generare e trovare un nuovo modo di essere. A noi non resta che rendere la terra più fertile e non arida per raccogliere nuovi splendidi frutti. Grazie. 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 Grazie.